Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amaci Casa Italia. Ci troviamo oggi da Spazio Design a Roma, già avevamo visto questo punto d'arredamento, questo negozio d'arredamento, che si trova in via Cristoforo Colombo 448 e stiamo vedendo un divano della D3, il divano si chiama Chris, è un divano, lo vediamo evidentemente con la Charles Long, ha la caratteristica di avere tutta quanta la struttura rivestita in pelle e poi la seduta accogliente, molto accogliente, rivestita in tessuto. Il prodotto è anche molto gradevole per questi piedini che lo personalizzano fortemente ed è una tendenza di questo momento del mercato, questo tipo di design. Grazie sempre per seguire i video di Amaci Casa Italia, e ci risentiamo al prossimo video.